Benvenuti, siamo con il professor Dario Lianes, già docente del generale di pedagogia e didattica dell'inclusione all'Università di Pozzano, corso di laurea in scienze della formazione primaria, cofondatore del centro studi Ericsson di Trento, per il quale cura alcuni collari, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista DITA. Benvenuto professore. Grazie, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Professore Lianes, la recente affermazione del generale Vannacci sulle classi differenziali ha riacceso il dibattito sul ritorno al loro utilizzo. Sarebbe giusto tornare a una situazione pre-riforma, ovvero al 1977? Ma allora, è chiaro che è un discorso antistorico, nel senso che ormai l'integrazione delle alunni con disabilità e poi più in generale l'inclusione è entrata nel DNA della scuola italiana. È quasi 50 anni, insomma, per cui è impensabile fare questo passo indietro, ma non è impensabile solamente per questo, è impensabile perché è anti-efficacia della scuola, non è solo antistorico, è anti-efficacia. E cosa vuol dire? Vuol dire che ormai la presenza di alunni con disabilità, alunni con DSA, con altri BES, l'eterogenità comunque che abbiamo nelle nostre classi, è un fattore di crescita, è un fattore di efficacia, è un fattore di sviluppo, è un fattore di accrescita di competenze negli alunni e nelle alunni. Ma questo non lo dico io ideologicamente, lo dice la ricerca. La ricerca scientifica, ormai a livello internazionale, ti dice che un gruppo eterogeneo, cioè mescolato in termini di abilità, competenze, lingue, provenienze e quant'altro, produce migliori risultati. Quella che Morenne chiamava la testa ben fatta. Testa ben fatta e non ben piena di nozioni, te la fai nel compronto con le differenze, nella gestione anche di conflitti, conflitti cognitivi, interpersonali, emozionali. Per cui tutta questa grande eterogenità, che non è facile ovviamente, che è molto difficile in alcuni casi, ma è uno dei fattori di sviluppo di competenze. È chiaro che dobbiamo gestirla bene, non possiamo nascondere le difficoltà. E' chiaro che chi fa l'inclusio scettico, come Vannacci, come Galli dell'Oggi, cavalca l'onda di quella fatica, di quella difficoltà, che nelle scuole c'è, indubbiamente. E allora parla a quelli insoddisfatti, a quelli affaticati, a quelli frustrati, dice che sarebbe meglio separare. Però non è questa la soluzione. Ecco, appunto, lei parlava di questa difficoltà. Parliamo adesso di integrazione o inclusione? Perché a quanto pare non è ancora ben chiara la differenza. Ci rispiega e ci aiuta a capire qual è la strada da seguire? Allora, integrazione è una parola ormai un po' vecchia, nel senso che fa riferimento a tutto quel periodo in cui gli alunni e le alunne con disabilità venivano portati nella scuola cosiddetta normale. L'attenzione era solamente su di loro, il sostegno, per cui tutta quella lunghissima fase che arriva nella nostra scuola, dalle anni 70 fino al 2010, quando si affacciano i DSA con la legge 170. Da allora in poi c'è un riconoscimento formale, ufficiale anche di altre condizioni di difficoltà, che non sono solo la disabilità, ma appunto i DSA e poi nel 2012 la direttiva Profumo sui alunni con bisogni educativi speciali, si allarga sempre di più la platea. Allargandosi la platea si va nella direzione della scuola inclusiva, che non è più quella che fa integrazione di un 4% dell'unico disabilità, ma quella che dà una risposta personalizzata, differenziata, libera, tagliata su misura al 100% degli alunni e delle alunne, per cui compresi anche chi ha una forte dotazione intellettiva, chi ha un background culturale differente, una lingua differente, un'interogenità complessiva. Per cui inclusione è questo, è dare risposte adatte, sviluppare il massimo potenziale in ognuno. In questo ognuno ovviamente c'è dentro dall'estrema disabilità intellettiva gravissima fino alla persona, ragazzina o ragazzina che ha un'altissima dotazione intellettiva, perché è un diritto di tutti e di tutte. Ecco, noi abbiamo parlato dell'impatto in Italia, ma in Europa come stiamo? Quanti paesi ancora utilizzano i classi differenziali e con quali risultati? Allora, li utilizzano quasi tutti, perché quasi tutti i paesi europei, ma anche a livello mondiale, hanno dei sistemi misti, di fatto. Per cui dei sistemi misti in cui ci sono delle scuole inclusive, sempre di più, perché ormai il trend è inarrestabile, però convivono anche scuole e classi speciali. C'è un sistema misto e c'è adesso sempre di più polemica e conflitto. Quest'estate, per esempio, un politico tedesco di estrema destra ha fatto un attacco durissimo all'inclusione, perché nelle scuole in Germania, dove si fa l'inclusione, è piena, come viene fatta in Italia, lì il dibattito è forte. funziona, non funziona, che risorse ci vogliono, eccetera. Mentre in Italia il dibattito non c'è più, a meno che appunto lo risolgano adesso l'inclusio scettici, ma nel resto d'Europa c'è molto, e cresce, diciamo, questo dibattito, questo inclusio scetticismo, come io lo chiamo, cresce, perché crescono movimenti politici, crescono nazionalismi, crescono dinamiche, diciamo di chiusura, di chiusura rispetto al diverso, all'altro da noi, eccetera, che alimentano evidentemente questi meccanismi. Non a caso, questa posizione critica nei confronti dell'inclusione in Germania avviene da un partito di estrema destra, non viene dalla sinistra o dal centro, dall'estrema destra. E allora, questa è un po' la situazione. ci sono delle isole di forza rispetto all'inclusione, per esempio il Portogallo sta facendo un bellissimo lavoro sull'inclusione, un po' sulla scia italiana. Questa è un po' la situazione, a livello, dobbiamo essere molto attenti a questo, io lo chiamo l'inclusio scetticismo, perché è un, come dire, è un attacco abbastanza forte, che appunto, ripeto, ha origini politiche, non ha origini scientifico-pedagogiche, la maggiore forza che sta dietro è una forza politica. Poi ci sono anche le declinazioni più pedagogiche, che però ignorano il fatto che abbiamo ricerca a livello internazionale, ma anche a livello italiano, che dimostra che in realtà l'inclusione fatta bene produce vantaggi. Ecco, io mi soffermo su questo aspetto e su aspetti che lei già ha toccato alla precedente domanda, perché in quest'ultima domanda vorrei sottolineare un aspetto che in molti portano avanti, ovvero che avere un classico, un alunno speciale, una ricchezza per tutti, in particolare per quelli che vengono definiti normo totale. È corretta questa visione? Assolutamente sì, però bisogna articolarla più nel dettaglio. Allora, è un vantaggio da che punti di vista? da tanti punti di vista. Allora, cominciamo dal punto di vista, diciamo, della sensibilizzazione alle differenze. Se io ho in classe anche un alunno o una luna con una grave, pensiamo, disturbo dello spettro dell'autismo, per dire, lì ho una risorsa formidabile per capire a relazionarmi, per capire come relazionarmi ad una persona strana, che pensa in maniera strana, che si comporta in maniera strana. Questa è una ricchezza formidabile per il mio sviluppo del mio sé in relazione con altri, perché faccio un'esperienza di un'eterogenità e poi magari se ho anche un alunno che legge in maniera strana, che fa fatica, un compagno, imparo anche qualcosa sulla lettura, cioè imparo qualcosa sulla varietà del mondo, l'infinita varietà delle differenze, ma che serve a me a crescere con mia consapevolezza. Per cui consapevolezza delle differenze, capacità di relazionarmi con gli altri, capacità di supportare anche conflitti, situazioni difficili, cosa che è potentissima come sviluppo di competenze di un cittadino. Per cui tutta quella parte diciamo che si potrebbe chiamare soft skills, cioè capacità di leggere il contesto, le relazioni, le emozioni dell'altro, mia, l'empatia, la solidarietà, l'aiuto, darlo bene, cioè tutto quel pacchetto diciamo complesso di soft skills è l'esercito in una situazione complessa, è un esercito in una situazione facile, perché quello è un primo vantaggio, una prima categoria diciamo di vantaggi documentata, ormai documentata. C'è una seconda categoria di vantaggi molto interessante, che è quella legata alla cognizione, all'apprendimento come attività mentale, come cognizione, e qua bisogna entrare nel discorso della metacognizione, cioè se io all'uno cosiddetto normodotato, devo collaborare con te, che c'hai un deficit intellettivo e dobbiamo insieme costruire qualcosa, io devo imparare, capire come tu pensi, come tu ragioni, le cose che tu sai, come collaborare efficacemente con te, per cui sviluppo teoria della mente, mi immagino come tu pensi le cose, mi immagino come tu puoi apprendere delle cose, cambio il mio linguaggio, evolvo il mio linguaggio, evolvio il mio modo di spiegarti le cose, cioè divento più potente dal punto di vista cognitivo e metacognitivo, perché devo gestire una situazione di collaborazione, ma è chiaro che se ognuno fa i cavoli propri, non interagiona, cioè non sto costruendo questa possibilità, mentre in una scuola cooperativa, dove c'è il gruppo cooperativo, il tutoring, la coppia che lavora insieme, eccetera, lì si sviluppano queste competenze, che non solo, ripeto, sono competenze di tipo socio emotivo, soft skills, ma sono anche competenze più di tipo cognitivo e metacognitivo. Poi c'è un terzo, una terza dimensione di vantaggio è quella, chiamiamola, del gruppo classe, e gruppo classe come gruppo diciamo che dovrebbe essere pro sociale, legato al sostegno reciproco, al creare un buon clima di condivisione, cioè di sentirsi squadra, sentirsi appartenendo alla squadra. Questo si sviluppa molto di più in classi eterogenee, perché c'è uno sforzo deliberato, come dire, strutturato per costruire questa cosa qua, che è il terreno su cui puoi lavorare. Per cui anche questo è un vantaggio diciamo dell'avere inclusione in classi eterogenee. Grazie mille professore per essere stato con noi. Grazie a voi, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.